segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te guardi ci sono due permesse da fare la prima che autonomia vuol dire differenziazione e che vuol dire che l'autonomia differenziata è implicita nel fatto che vi sono regioni se ci fosse il desiderio di avere una disciplina uniforme non si farebbero le regioni il secondo è che la stessa costituzione è stata modificata per introdurre una norma speciale per differenziare le autonomie qual è la precauzione da prendere la precauzione da prendere di fissare i livelli essenziali delle prestazioni la sigla lepp è diventata ormai di uso comune i livelli essenziali delle prestazioni ma in modo tale che essendo diversa il grado di autonomia da una regione all'altra tuttavia siano assicurati questo minimo comune denominatore dei diritti essenziali ai cittadini in modo particolare non ha paura di questa bandiera della scuola e della sventolata dalla lega ma l'autonomia è un fatto positivo i nostri costituenti hanno voluto nel 1948 l'autonomia e ovviamente quando si dice a una regione muoviti in maniera autonoma si dice eventualmente che una regione può essere diversa da un'altra la cosa fondamentale è che la diversità dell'autonomia sia però garantito il rispetto di uguali diritti sulle materie essenziali quali la sanità la scuola la protezione sociale e per fare questo c'è bisogno dei livelli essenziali di prestazione qual è il difetto della bozza di lavoro presentata dal ministro calderoli e che consente stabilisce di il principio che debbono essere prima fatti i livelli essenziali delle prestazioni e poi l'autonomia differenziata ma consente se non vengono determinati i livelli essenziali di prestazioni di procedere con l'autonomia differenziata anche senza questi livelli e qui c'è il problema in un anno secondo me si possono determinare i livelli essenziali delle prestazioni e ovviamente anche le risorse necessarie quindi grande cautela consigliere professor cassese